Buongiorno a tutti, benvenuti in un altro video. Quest'oggi è un video un po' particolare perché siamo ospiti del gruppo Merlo al Gran Premio di Monza di Formula 1 perciò partiamo subito e vediamo se riusciamo a fare un po' di magia in questo evento spettacolare. Buona visione! Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti